In questo tutorial vediamo degli esempi tra la relazione tra i termini di una progressione aritmetica. Partiamo da questo primo esercizio. Date le seguenti informazioni relative a una progressione aritmetica determina ciò che è richiesto. A7 è pari a 39, la ragione D è pari a 7, lo scopo è determinare A3. Per risolvere questo esercizio utilizzerò questa seconda formula. AS corrisponde al termine minore, ossia A3. AR corrisponde ad A7, inoltre conosciamo la ragione D che è pari a 7. E allora, utilizzando questa formula, posso scrivere A3 uguale a R, AR è pari ad A7 e corrisponde a 39, meno, apro la tonda, R meno S. R risulta essere pari a 3. Chiudo la tonda per la ragione D che è pari a 7. Eseguore i calcoli. Ricopio 39, meno, 7 meno 3 è pari a 4, moltiplicando per 7 e si ottiene 28. 39 meno 28 risulta essere pari a 11. Passiamo a questo secondo esempio. Conosciamo A4 che è pari a 15 mezzi. La ragione D è pari a 3 mezzi, lo scopo è determinare A10. Per risolvere questo esercizio posso utilizzare questa formula. AR corrisponde ad A10, AS corrisponde ad A4, poi conosciamo la ragione D che è pari a 3 mezzi. E allora posso scrivere A10 è uguale a AS, AS abbiamo detto che è pari ad A4 e corrisponde a 15 mezzi. Poi più R meno S, apro la tonda, R è pari a 10 meno S che risulta essere pari a 4 per la ragione D che è pari a 3 mezzi. Eseguore i calcoli. 15 mezzi più 10 meno 4 si ottiene 6 per 3 mezzi. Moltiplico ora 6 per 3 ed ottengo 15 mezzi più 18 mezzi. Osservo ora che questi due numeri hanno lo stesso denominatore e allora posso sommare i numeratori. 15 più 18 si ottiene 33 mezzi. Vediamo quest'ultimo esempio. Conosciamo A5 che è pari a 3 radice di 7, la ragione D che è pari a 5 radice di 7, lo scopo è determinare A10. Per risolvere questo esercizio utilizziamo questa prima formula. AR corrisponde ad A10, AS corrisponde ad A5. Inoltre conosciamo la ragione che è pari a 5 radice di 7. E allora posso scrivere A10 uguale a S, ossia ad A5, e A5 corrisponde a 3 radice di 7. Poi più, apro la tonda, R meno S e quindi devo scrivere R, ossia 10 meno S, ossia 5. Poi chiudo la tonda per la ragione D che è pari a 5 radice di 7. Eseguo i calcoli. Ricopio 3 radice di 7, poi 10 meno 5 è pari a 5. Moltiplicando per 5 radice di 7 si ottiene 25 radice di 7. Sommo questi due numeri e sarà sufficiente sommare 3 con 25 e si ottiene 28 radice di 7. E con questo termino il tutorial fra la relazione tra i termini di una progressione aritmetica.